Ed eccoci in cucina con due ospiti questa volta, Gabriele di Romagna Mia e abbiamo anche Roberto Russo, l'autore di questo bellissimo libro Good Ciao, anzi volevo sapere perché questo titolo? Good Ciao gioca sullo slang americano tra ciao cibo cinese, C-H-A-O e ciao italiano. Per cui è un modo, due amici che si incontrano dicono Good Ciao, dicono Buon Appetito, Oh carino, bello. Buona vita, buon tutto. E intanto Gabriele ha le prese con una ricetta presa proprio dal tuo libro. Il tuo libro tra l'altro si divide in due parti, una parte è in italiano dove mostri delle ricette molto molto semplici, basi, tutti prodotti organici, tra l'altro infatti adesso tu cosa stai facendo? Banana, banana e pancetta e qui ho fatto prugna secca, fontina e pancetta. Ecco, probabilmente la gente da casa ti dice mai sentito una ricetta così, come ti è venuto in mente? È una cosa, è un abbinamento felicissimo perché è un appetizio, è un entrè, è proprio un chuzzichino, è una cosa che si può provare molto semplicemente in una padella o in un grill, è una cosa semplicissima. È importante la qualità della pancetta. E da Romagna mia esiste una pancetta che in Canada non ho mai visto da nessuna parte. E tu dove la prendi? La fai tu? La facciamo noi. Ah, è per quello, ecco perché è buona. Noi abbiamo gli animali che sono in libertà, per cui tutti i nostri animali a Parco Fiorito, noi produciamo le nostre carni esclusivamente per i nostri ostri. Mangiare a Parco Fiorito mangia tutti i prodotti della terra, tutti i prodotti organici. Tutto organico. Noi siamo certificati da ben dieci anni, è il decimo anno questo qui, e abbiamo questa fortuna di vivere in un posto che esprime energia. Ma tu mi dici una cosa, parlando dietro le quinte, poco fa mi hai detto che tu hai fatto il manager per una grande compagnia di assicurazioni. Mi puoi dire come hai fatto dall'assicurazione a appassionarti così tanto del cibo? Niente, l'evoluzione, andare avanti, il senso della qualità della vita. La città non ti permette di vivere con una dimensione per sopravvivere con un discorso di qualità. Invece l'azienda agricola ti dà la possibilità di toccare con mano. Le pecore sono in libertà, abbiamo il miglior agnello del mondo, il nostro maiale è un maiale eccezionale. Abbiamo polli, tacchini, abbiamo tutti i tipi di animali possibili e immaginabili. E tutto questo avviene nella bellissima Toscana che tra l'altro è proprio confine con l'Umbria. Confine con l'Umbria, noi siamo nella zona del Trasimeno, famosa anche per la risina del Trasimeno, che è uno dei prodotti slow food più famosi. La risina è un piccolo fagiolo chiamato risina perché ha la forma di un riso, del riso piccolo. È una cosa molto particolare. Allora, queste banane come vanno? Vanno molto bene, le prugne vedi sono pronte. C'è un profumino, prevale la pancecca. Il formaggio si sta fondendo un attimino. Quindi la pentola è calda 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 immagino. Si capisce anche dal fumo, immagino che i telespettatori la possono notare. Questa si potrebbe fare anche in un forno, hai capito? In un grill. In un grill. A massima temperatura. Quanto tempo? Sei minuti. Ecco, per farlo. Sei minuti, cinque minuti. Appena si vede il formaggio sciogliersi o la pancetta brustolire è il momento di tirarlo fuori. Vogliamo un attimo ancora una volta, Gabriele, ricordare la ragione per la quale questa cena è stata organizzata proprio per questa sera, che è per accogliere fondi per i giovani artisti. Per poter partecipare a questa cena bisogna andare quindi a Romagnania, al 106 di Front Street East a Toronto. Ecco qui, guarda come l'hai presentato bene. Ecco qua, guarda. Eccolo qui. Questo è giusto una spruzzatina di pepe e il nostro piatto è finito. E questa ricetta la si può trovare in questo libro. Sì, goodchao.com è dove si può anche comprare il libro online. Anche quello. E dicevo che metà in italiano, metà in inglese e metti in risalto veramente gli ingredienti base della cucina italiana che sono ormai famosi in tutto il mondo. Devo dire che la cucina italiana ha insegnato tanti a cucinare perché mentre in tante culture si mischiano gli ingredienti uno sopra l'altro è bollente. Poi non riuscirò a parlare. Vuoi che ci provo? Volevo dire che ogni ricetta sia in italiano che in inglese. Esatto. E' importante questo perché è anche un modo per fare esercizio di lingua. Per molti che sono qui in Canada e vogliono imparare la lingua italiana possono anche cimentarsi in questo. Mi dicono che abbiamo solo 30 secondi. Allora 30 secondi, cioè noi avremo bisogno molto di meno per mangiare questa cosa, per dire la verità. Allora approfitto per ringraziare i miei ospiti Roberto Russo e anche Gabriele Paganelli che è lo chef executive di Romagna Mia. Sarà una serata interessantissima, ci sono delle cose veramente deliziose da provare per la giusta causa. Noi scappiamo perché dobbiamo preparare. Poi dovete scappare, ma questo me lo tenete qua. Continuiamo a ascoltare il magnifico violino di Greenville Pinto. Ci suona Everything di Michael Bublé, lo dedico ai miei ospiti di oggi. Grazie. Arrivederci a tutti, buona domenica.